No, partita brutta, 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 ma non per colpa nostra, è stata una partita brutta da parte nostra e da parte loro, quindi il campo era... Ecco, quanto è influito? No, tanto solo e tanto il campo, ma sia per noi che per loro, perché poi a fine gara parlando con il loro allenatore mi ha detto che il campo penalizza, chiaramente chi viene a vedere la partita o magari della tv non può sembrare da com'è poi realmente il campo in campo, il campo, per fare un controllo dovevi toccarla tre o quattro volte per mettere giù la palla e tanto l'azione non era mai fluida, ti rimbalzava male, per fare un lancio dovevi stare tre secondi a prima metterla a posto la pace, quindi era ingiocabile, non si può giocare, però siamo stati bravi, tanto loro sono un po' più abituati di noi giocandoci qui stesso e noi comunque ci siamo adeguati, doveva fare una partita sporca ma è diventata ancora più sporca, però lì si è stati bravi, perché comunque abbiamo retto, comunque non era facile, perché comunque loro è una squadra temibile, davanti hanno forza, individualità e quindi qua ha messo in tipo stava quasi tutte le squadre, però ci portiamo a casa un punto, ripeto, è chiaro la testazione, più di questo sinceramente oggi credo che la mia squadra non potesse fare. E' mancato un po' il gioco sulle fasce esterne, non siete riusciti a servire le corsie esterne dove forse si poteva creare qualcosa di più? Sì, giusto Massimo, sulla carta noi l'avevamo preparata così, sapendo che loro 4-3-1-2 ci lasciavano liberi le corsie esterne, però come ha detto prima il campo non ce l'ha permesso, quindi anche oggi Caringham diciamo che ha fatto fatica, ma proprio perché non c'aveva spazi giusti, non c'aveva possibilità poi di partire e di ripartire e l'azione era sempre lentissima perché non potevamo andare da una parte all'altra per sempre il discorso di campo, quindi ripeto, l'aspetto tecnico oggi ha condizionato veramente la partita e dove sia noi che loro praticamente non hanno fatto quasi nessuna versione offensiva tranne l'ultimo minuto del primo tempo dove abbiamo avuto un'occasione. Gli infortuni corti e lancini, si può sapere già qualcosa? Corti forse un po' muscolare ma ancora da capire bene, lancini già non stava bene stamattina perché aveva mal di stomaco e vomito, quindi stamattina già lui quando si è alzato non stava bene, però se la sentiva di giocare è uscito solo per quel motivo, a un certo punto non stava bene. Le ammunizioni, qualcuno dalla televisione ci dice è stato ammunito Lorenzini o Bertoncini? No, Lorenzini, quindi Bertoncini lo avremo col manto, non avremo Calcagni. Mister, prima di lasciarti a Massimo Paolo, l'essersi bloccati poi le due seduzioni, una scelta che abbiamo visto tanto pensieroso, fare avanti e indietro, noi pensavamo all'ingresso magari nell'ultimo 15 minuti di scappi? Non potevo, non potevo perché avevo già utilizzato due slot, quindi nel momento in cui io avessi fatto dei cambi succedeva un infortunio o un espulsione, no espulsione no, ma un qualcosa un infortunio e chiaro avremmo fatto la partita in 10, quindi non potevo rischiare questa cosa, ho aspettato fino all'ultimo, però poi ho detto mancavano 2-3 minuti, ho detto inutile che faccio cambio perché poi facendo dei cambi si prolungava anche il tempo e quindi molte volte anche fare cambi nei recuperi non va bene, questa cosa qui mi è servita di lezione da partita un po' di anni fa dove ho fatto dei cambi all'ultimo, nei minuti di recupero, si è allungata e abbiamo preso gol, quindi ricordando questa cosa quindi è sempre un po' molto pericoloso, almeno che il risultato ormai è consolidato. In alcune sostanze il punto e provare una vittoria, quando si sa che oggi non si poteva riuscire. Oggi quando è iniziata già la partita avevo capito che oggi dovevamo capire che una partita dove dovevamo portare a casa lo stesso, se è un punto, ma per noi voglio dire che comunque è un punto importante, ripeto il fatto lì della sostituzione ci voglio ritornare perché chiaramente avendo bruciato due slot era tanto rischioso, quindi non era corretto.